Dottoressa Marinella Soldi, Presidente della RAI, accompagnata dall'Avvocato Nicola Claudio, Direttore dello Staff della Presidente, dalla Dottoressa Angela Mariella, Direttrice delle Relazioni Istituzionali e dalle Dottoresse Cinzia Squadrone e Giuliana Palmiotta, dello Staff della Presidente e dalla Dottoressa Frediana Biasutti, della Direzione RAI Parlamento. L'audizione odierna costituisce l'occasione sicuramente per acquisire elementi informativi sull'andamento complesso del servizio pubblico al termine del mandato da Presidente, nonché su alcune specifiche vicende come richiesto nell'ultimo ufficio di Presidenza. Cedo dunque la parola alla Presidente Soldi, poi faremo un giro di domande e concluderà la Presidente stessa. Grazie ancora per essere qui con noi e l'ascoltiamo volentieri. Devo accendere qua, dovrei saperlo a questo punto, si vede che è l'emozione. Buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli commissari. Premesso che sono a disposizione della Commissione anche per le richieste specifiche della convocazione, uno dei motivi per il quale sono stata convocata ovviamente, volevo però prima onestamente restituirvi il lavoro di questi tre anni ed è la cosa sul quale ovviamente mi focalizzo, poi ripeto sono a disposizione. Sono dunque lieta di incontrarvi e di avere quest'occasione di confronto, vorrei approfittare dell'invito per consegnare a voi, come ho detto brevemente, alcuni elementi informativi sull'andamento del servizio pubblico, a conclusione del mio mandato e anche ciò che ho imparato e porto con me dei tre anni di straordinaria esperienza come Presidente RAI. Ho cercato di interpretare il ruolo di Presidente della RAI come un civil servant, mettendo ogni giorno la mia competenza nel settore dei media al servizio della collettività. Sono stati tre anni molto istruttivi che hanno visto un cambio di governo, la successione di due amministratori delegati e la tragica scomparsa di un membro del CDA. Come tecnica ho affrontato questi passaggi critici con la volontà di portare a compimento il lavoro iniziato, convinta che i progetti strategici non nascono e muoiono in pochi mesi. Fianco a fianco con chi in RAI lavora da una vita, ho potuto sperimentare come sia preziosa una consolidata conoscenza dell'azienda. Al tempo stesso, credo sia utile e necessario portare alla guida dell'azienda anche idee nuove ed esperienze provenienti dall'esterno. Si tratta di competenze diverse che devono collaborare fruttuosamente per il bene del servizio pubblico. Ho anche lavorato per rafforzare il ruolo di RAI tra i servizi pubblici europei perché, lo sappiamo, le sfide non sono più nazionali. Sono una ferma sostenitrice della centralità del servizio pubblico per la democrazia. Le mie lotte, anche difficili, sono state e saranno dedicate a questo. Parlo adesso un attimo del bilancio dei tre anni di mandato. Nel fare un bilancio il mio mandato comincio con ringraziare per il lavoro di questi tre anni che ha visto l'impegno comune, ognuno nel proprio ruolo, del CDA e anche del collegio sindacale e degli altri organi di controllo. Tutto il Consiglio di amministrazione ha portato a compimento nel triennio e per la prima volta in maniera sincronica quattro piani complessi, alcuni dei quali, in taluni momenti, sembravano impossibili da completare. Ora costituiscono insieme una cornice concreta e condivisa che mette in sicurezza i progetti strategici fondamentali per la RAI dei prossimi cinque anni. Abbiamo portato a conclusione i percorsi del contratto di servizio, del piano industriale insieme al piano immobiliare e del piano di sostenibilità. E' importante essere riusciti a mettere al centro delle strategie aziendali la sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Conoscete questi piani, vi sono stati esposti di recente dall'amministratore delegato e dal direttore generale Corporate e dal direttore di RAI per la sostenibilità. Perciò mi limito a riassumere i temi cruciali che li attraversano e che è necessario affrontare per legittimare sia la richiesta di un canone universale sia, secondo me, l'esistenza stessa del servizio pubblico. Anche se in Italia la televisione ha ancora oggi un ruolo più rilevante che in altri paesi europei per la particolare storia e configurazione del nostro mercato televisivo, dobbiamo confrontarci con un mondo che sta velocemente cambiando e in cui il digitale sta rimodellando la vita delle persone. Parliamo spesso di share, ma sottolineo che l'ultimo osservatorio della comunicazione di Agcom riporta che nel 2023 ogni mese circa 38 milioni di italiani si sono informati su siti e app. È chiaro che lo share televisivo che di solito utilizziamo per capire se stiamo andando bene o male non è più una misura sufficiente per capire se stiamo facendo quello che il contratto servizio ci chiede e cioè essere rilevanti per tutti. Possiamo essere rilevanti solo se, da un lato, saremo in grado di farci trovare su tutte le piattaforme e dall'altro se ci facciamo scegliere regolarmente dagli utenti. Mi spiego meglio. Farsi trovare vuol dire essere presenti con prodotti adeguati, non solo in tv, ma ovunque gli utenti siano e non solo dal pubblico tradizionale, ma anche da chi la televisione la guarda sempre di meno o per niente, cioè i giovani e non solo i giovani. Ricordiamo che l'età media dei canali lineari RAI è di 64 anni e in più dobbiamo farci trovare regolarmente e non occasionalmente online e sui social. Un ottimo punto di partenza sono gli utenti che mensilmente tornano su RAI Play con 42 anni di età media. Cioè è un buon dato questo. Veniamo all'altro punto, quello di farci scegliere dagli utenti, fidelizzarli regolarmente. Io sono convinta che la distinzione fondamentale per un servizio pubblico e il lavoro profondo da fare è aumentare e guadagnare la fiducia dell'utente. Fiducia può sembrare una parola alta, stratta, ma credo che sia davvero il cuore di tutto ed è la differenza sostanziale del servizio pubblico. Ce lo dice anche IBU, è un tema per tutti i servizi pubblici. La fiducia va guadagnata anche con la trasparenza, che vuol dire dar conto di come si lavora, avere il coraggio di darsi degli obiettivi, misurarsi e confrontarsi con quanto si è raggiunto. Ci si può arrivare gradualmente, studiando anche l'esempio di altri servizi pubblici. Per esempio, per monitorare la sua rilevanza, la BBC misura 552. Questo è un po' il loro mantra. Perciò, quanti utenti seguono la sua offerta cinque volte a settimana, quindi regolarmente, almeno cinque ore la settimana, dunque per scelta e non di passaggio, e su almeno due piattaforme, cioè in occasione di consumo diversi, come podcast, radio, lineare e social. Vi soffermo ora sul tema dell'informazione, che è il cuore del servizio pubblico. Abbiamo detto che nel 2023 ogni mese 38 milioni di italiani si sono informati online. Rispecchiare nuovi modi di consumo è particolarmente importante per l'informazione. Proliferano le echo chambers, cioè l'abitudine a vivere, soprattutto su internet, ma non solo, nelle bolle fatte solo da fonti informativi ed opinioni che confermano le proprie convinzioni. L'algoritmo ci rassicura che il nostro punto di vista è l'unico giusto possibile. La polarizzazione cresce a dismisura. Questa è la guerra cognitiva in corso di cui vi ho già parlato a dicembre. Occorre intervenire subito, perché l'abitudine all'algoritmo fa sì che chiunque cerchi di portare fatti diversi o più completi o di far capire la posizione avversa viene rifiutato. È un fenomeno trasversale a molti paesi, è un pericolo per la democrazia. E ci porta a due considerazioni per il nostro lavoro. Da un lato, i numeri dei RaiNews.it, sia pure in miglioramento, non ci bastano. Dobbiamo scalare le classifiche ed essere tra le prime scelte abituali degli utenti, come avviene per i brand informativi dei servizi pubblici in UK, Danimarca, Olanda e Francia. Dall'altro, il servizio pubblico ha il compito di raggiungere tutti per offrire una plurità di punti di vista, una qualità dell'informazione ineccepibile, una reputazione ferrea per eccellenza, affidabilità ed equilibrio. Si ritorna al concetto fondamentale di coltivare la fiducia, che vuol dire anche rendere sempre più trasparente il modo in cui si lavora, essere il punto di riferimento per i cittadini e aiutarli a formarsi la loro opinione con spirito critico, in opposizione alle urla dell'eco-chamber e delle testate di parte, esattamente come ci viene richiesto, dal contratto di servizio. Come ultima riflessione nel bilancio di questi tre anni, vorrei portare la vostra attenzione su alcuni punti, a mio parere salienti, circa l'attuazione dei piani strategici, quattro piani di cui vi ho parlato. Per quanto riguarda il contratto di servizio, una novità importante del nuovo testo prevede indicatori misurabili, per quantificare gli impegni presi e monitorare la loro attuazione. Devono però ancora essere definiti, è importante farlo, in accordo con gli obiettivi del piano industriale. Definirli non è facile, perché richiede anche un cambiamento culturale impegnativo. Per quanto riguarda il piano immobiliare, strategico per liberare risorse, a modernare gli spazi di lavoro e quelli produttivi in tutto il territorio, il cronoprogramma per il momento è rispettato. Il monitoraggio periodico futuro è fondamentale per assicurare che le tappe rilevante, anche se complesse, mantengono il passo. Il piano ha un orizzonte di dieci anni, perciò ce n'è da monitorare. Per quanto il piano di sostenibilità, molto è stato fatto, molto rimane da fare. Una delle azioni concrete è stata il Per Italia 2023, il primo evento RAI sostenibile. A questo evento pilota devono seguirne altri, in cui applicare quanto si è imparato. Nell'ambito della sostenibilità ambientale sono state adottate delle procedure di acquisto nuove dai criteri di green procurement, più stringenti di quanto previsto dalle soglie minime di legge. Ed è stata assicurata a tutti i cespiti RAI una fornitura elettrica interamente da fonte rinnovabile. Per quanto riguarda la sostenibilità sociale, in questi anni mi sono personalmente impegnata nella riduzione del gender gap, per esempio nella diffusione del protocollo no women no pano sul territorio nazionale, con le sedi regionali della RAI protagoniste e coordinatrici delle iniziative. Ad oggi sono 60 i soggetti firmatari, molto fiera di questo. Sul prodotto il progetto 50-50-50 è stato scritto nel nuovo contratto di servizio e coinvolge ad oggi 77 programmi RAI, un numero buono, ma ancora da migliorare. Abbiamo provato in CDA le policy di genere, si attende ancora un action plan che è necessario definire e implementare. Sono orgogliosa che finalmente i giovani siano stati messi al centro del nuovo contratto di servizio. Il piano industriale indirizza gli investimenti anche verso contenuti destinati al loro consumo. Mi rammarico però che non siamo riusciti in questi tre anni a nominare nessun dirigente che abbia meno di 40 anni. È appena 4 sotto i 43 anni. Per crescere e rinnovarsi la RAI ha bisogno di attrarre e motivare giovani talenti, trovando il modo di vincere tanti ostacoli, primo fra tutti la competitività di mercato. Per quanto riguarda la qualità dell'informazione, ricordo che è il più importante tema per i nostri stakeholder, in primo piano nel contratto di servizio, oltre che come evoluzione dell'offerta anche nel piano industriale. Il piano di sostenibilità ha previsto in concreto la creazione di un osservatorio sulla qualità dell'informazione. Sono stati compiuti i primi passi verso la definizione di una cornice di criteri più completi di quelli oggi previsti dalla normativa. L'attuazione di tale osservatorio, prevista a breve, permetterà uno sguardo approfondito e contestualizzato che i sistemi usati finora non offrono, ma molto si dovrà fare in termini di trasparenza e creazione di indici di fiducia. L'ultimo grande tema sul quale abbiamo appena iniziato a lavorare è l'intelligenza artificiale generativa, che sta impattando in modo veloce e imprevedibile le nostre vite e il mondo dei media, come ha sottolineato anche il professor Floridi nella recente adozione in questa sede. La RAI, come altri servizi pubblici europei, in questo ambito è un follower e far parte dell'IBU è fondamentale per condividere esperienze e muoversi consapevolmente. Bisogna iniziare presto a sperimentare da parte di tutta l'azienda e non solo dei tecnici e vanno scritte delle policy per guidarne l'uso a beneficio dei dipendenti e degli utenti. La BBC è più avanti in questo campo e ha avviato con l'intelligenza artificiale 12 progetti pilota mirati a tre principali obiettivi. Valorizzare contenuti, arricchire l'esperienza degli utenti e ottimizzare i processi produttivi. Potete trovarli descritti online nel BBC Media Center. Ho saltato il piano industriale, mi dicono. Ah sì, è vero. Questo è il fronte retro, grazie. Meno male che c'è un team che lavora con me. Ecco, 11, 12... Piano industriale, eccoci qua. Fantastico, ottimo. 7, 8, 9... Ecco, sì. Da contratto di servizio sono passata al piano immobiliare senza guardare il piano industriale. Scusate. Per risparmiare carta faccio fronte retro, ma poi faccio... Allora, abbiamo parlato dunque dell'intelligenza artificiale generativa e piano immobiliare, piano sostenibilità. Adesso ritorno al piano industriale, grazie. Per quanto riguarda il piano industriale è un piano che disegna, un po' importante, che disegna un cambiamento epocale, richiede coraggio, determinazione e condivisione. Sono state avviate alcune aree prioritarie di studio, ma spetta ai nuovi vertici la responsabilità di attuare in pieno il piano, di spiegarlo e di renderne conto. Ogni dipendente dovrà sentire la responsabilità del suo compimento. È una grande opportunità di essere protagonista di un cambiamento necessario e urgente e non senza grandi sfide. Ci sono, secondo me, tre criticità sulle quali porre attenzione in maniera particolare per quanto riguarda il piano industriale, anche da parte del nuovo CDA. Uno, ottenere le risorse finanziarie che il piano prevede. Due, ingaggiare pienamente e a fondo dipendenti, sindacati e stakeholder, perché il cambiamento richiede il loro convinto coinvolgimento. E tre, monitorare continuamente e rispettare i tempi di attuazione. Abbiamo parlato della qualità dell'informazione. Abbiamo finito con l'intelligenza artificiale generativa. In conclusione, per quanto riguarda il mio bilancio, avete potuto notare fin qui quasi un'ossessione per i dati. Io credo che sia necessario che tutte le persone in RAI facciano amicizia con i dati, ricevano formazione sui dati, apprezzino l'importanza dei dati e l'aiuto che il loro utilizzo può dare. Bisogna sapere scegliere indicatori significativi, misurare la situazione di partenza, darsi obiettivi e misurare man mano i traguardi raggiunti. Con la cultura del dato si possono prendere decisioni più mirate per i nostri utenti, essere più trasparenti e dunque promuovere la fiducia e far cogliere la distintività del servizio pubblico. In ultimo, vorrei esprimere alcune riflessioni più personali e sul futuro. In primo luogo, dirvi cosa ha significato per me essere a capo di un media di servizio pubblico. Ho avuto conferma che quello che a volte sembra impossibile si può fare grazie alle persone che hanno l'apertura mentale, la volontà e la capacità di mettere in atto il cambiamento, anche se non vi nascondo di aver affrontato momenti di difficoltà oggettiva. Ho capito ancora più profondamente l'impatto che un grande media ha sulla società e il contributo che si può dare al bene pubblico e al progresso del Paese. Mi ha fatto vedere con chiarezza la necessità di collegamenti forti con gli altri servizi pubblici europei nel contesto dominato dalle grandi società tecnologiche internazionali. Voglio condividere con voi come è la RAE che vorrei, condizioni necessarie per un servizio pubblico in salute, rilevante e creativo. È urgente una RAE completamente trasformata da broadcaster a media company digitale, cioè con un'offerta fruibile su tutte le piattaforme. È una cultura interna arricchita dalle competenze digitali. Una RAE che prenda decisioni guidate dai dati, che sappia, cioè, guardare ai dati giusti per misurare l'effettiva capacità di essere il servizio pubblico che dobbiamo e vogliamo essere. una RAE trasparente nei suoi processi per alimentare la fiducia dei dipendenti e degli utenti. Una RAE trasparente anche nell'informazione, capace di mostrare all'utente come costruisce le sue notizie, compreso il racconto della politica e meno focalizzata sui politici. Una RAE che riesca a sincronizzare la strategia aziendale con la velocità dei cambiamenti dell'ecosistema dei media, nazionale e internazionale. La personalità giuridica ibrida di RAE la appesantisce in maniera non più sopportabile. Una RAE dalla governance profondamente mutata, più salda perché slegata dagli scossoni quotidiani del dibattito nazionale e con orizzonte temporale più ampio. una RAE coerente con lo European Medium Freedom Act, un servizio pubblico che sia pilastro della società democratica grazie a una maggiore indipendenza e a un finanziamento adeguato e stabile. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei e grazie al lavoro svolto. Questa commissione è non soltanto il luogo della polemica ma anche il luogo della consapevolezza e quindi ogni volta che riusciamo a udire uno dei vertici RAE insomma dal direttore generale all'amministratore delegato e oggi lei per noi è prezioso perché riusciamo ad avere così dati informazioni visioni che ci servono per proteggere quello che è il servizio pubblico quindi siamo consapevoli che in questa commissione oltre a parte le polemiche a volte anche necessariamente fisiologiche c'è comunque una volontà penso di poter parlare a nome della commissione trasversale di voler davvero lavorare sui dati di voler davvero lavorare sulla consapevolezza della realtà che viviamo per poter aiutare il servizio pubblico a trasformarsi e a rendere quel servizio che deve a tutti i cittadini e quindi grazie io lascerei la parola ai commissari in modo tale da poter approfondire ancora la sua relazione e magari venire anche a temi un po' più specifici prego onorevole Graziano grazie presidente e voglio ringraziare la presidente soldi per essere qui stamattina a dirci in particolare quello che è stato diciamo i suoi tre anni in Rai ovviamente la nostra audizione la nostra richiesta di audizione verte in particolare su quello che riguarda la vicenda Scurati Burtone era questo il motivo per cui l'avevamo chiesta ma e quindi le chiedo di dirci con chiarezza così come già lei pubblicamente in alcune interviste comunicate insomma sostanzialmente ha detto per capire che cosa avendo lei come pubblicamente ha detto guardato l'audit visto cosa in realtà emergeva da quella vicenda visto che a noi non è chiaro sostanzialmente cosa è realmente accaduto e perché è stato revocato il contratto a Scurati detto ciò però mi preme perché lei ha fatto un escursus molto importante di quelli che sono stati i suoi tre anni molto chiaro e direi diciamo come una relazione che in sintesi definirei in chiaroscuro cioè ci sono dei dati positivi ma ci sono anche dati negativi a mio avviso che lei sostanzialmente mette in rilievo io penso e questo vorrei chiederglielo a lei quali sono le azioni che a suo avviso bisogna fare immediatamente perché ci sia il recupero di fiducia e di trasparenza perché lei ha usato due parole a mio avviso molto importanti che condivido molto perché sulla sua come dire la sua relazione oggi a mio avviso è una relazione di coraggio cioè spiega delle cose importanti e in più io mi faccio una domanda gliela faccio a lei perché sono tempo che lo dico la riduzione di quelle che sono le sostanziali risorse e per la trasformazione perché quando lei dice in realtà la BBC ha il 552 in realtà il 552 prevede le due piattaforme ma le due piattaforme nella sostanza sono dettate da investimenti che la BBC ha fatto importanti ecco come pensa che dopo che c'è stata una difficoltà da questo punto di vista del governo a fornire ulteriori investimenti alla RAI ma addirittura li abbiamo tolti attraverso la riduzione del canale abbiamo messo nella fiscalità generale per un anno e per l'anno prossimo 440 milioni non ci sono come si fa a trasformare il servizio pubblico radio televisivo quest'anno come dire sul piano industriale abbiamo messo un po' un lavoro facendo una vendita di un pezzo di railway ma la domanda è come si fa e quali sono gli effetti della riduzione e dal punto di vista della governance della RAI se c'è una riduzione di quelle che sono le risorse una messa di quelle risorse alla volontà del governo di poterle ridare oppure no l'anno prossimo e di conseguenza questo aiuta la fiducia e la trasparenza di quello che deve essere il servizio pubblico oppure no grazie senatore bergesio grazie presidente grazie presidente soldi della sua disponibilità odierna abbiamo condiviso anche con l'opposizione la sua venuta qui soprattutto perché è anche un momento di confronto molto importante e a cui noi ci teniamo noi ci ricordiamo bene anche l'audizione del 5 dicembre dello scorso anno laddove lei ci ha presentato anche le linee guida del piano di sostenibilità con i temi che state portando avanti ci aveva colpito in modo positivo il tema della qualità dell'informazione tema prioritario del piano di sostenibilità come lei aveva prontamente qui specificato capitolo fondamentale del contratto di servizio emissione rinunciabile dei servizi pubblici che hanno il compito di dotare i cittadini di strumenti per comprendere la realtà e sul tema dell'informazione lei poi aveva anche sostenuto devono entrare in gioco i servizi pubblici per essere molto chiari e trasparenti con assoluta esigenza di presidiare e occupare spazi anche online come ha ripetuto anche oggi con un'informativa convalidata di provata veridicità e autenticità la trasparenza dei nostri processi di verifica aiuterà anche i cittadini a sviluppare quel senso critico per distinguere e decifrare i contenuti laddove lei oggi ci ha anche ricordato che l'età media dei canali ideari ormai è a 64 anni a Repre abbiamo 42 anni di età media degli utenti in merito a questo io volevo segnalarle un caso importante domenica sera il conduttore della trasmissione report Ranucci cioè domenica 19 maggio 2024 chiudendo il servizio della Simico ha affermato che pur avendo chiesto alla società il cronoprogramma delle opere infrastrutturali avrebbe ottenuto un diniego in quanto l'ufficio stampa non risponde a noi testualmente ha detto in trasmissione risponde al ministero delle infrastrutture che però con noi non parla però il conduttore ha detto noi abbiamo gli atti a disposizione una grave falsità l'ufficio stampa del ministero delle infrastrutture infatti quattro giorni dopo in data 14 maggio 2024 ha inviato la redazione di report la documentazione richiesta non comprendiamo quindi per quale motivo il conduttore certamente consapevole delle sue dichiarazioni e delle sottese implicazioni abbia deciso di mentire deliberatamente noi siamo abituati alle affermazioni del conduttore l'abbiamo avuto anche in trasmissione negli ultimi io poi ero già nella legislatura precedente di vigilanza Rai più volte che in quest'aula lui ha sottolineato più volte che non esiste una verità processuale che possa modificare quella storica allora noi diremo che possa modificare quello che sono i teoremi costruiti che per noi questo non è sicuramente un aspetto positivo lei stessa pochi mesi fa in un caso che aveva visto coinvolto un giornalista invitato presso un congresso di partito aveva molto opportunamente osservato che gli operatori dell'informazione Rai sono richiesti di esercitare la propria professione nel segno del pluralismo e dell'imparzialità essenziali per aiutare i cittadini a formarsi un'opinione libera da pregiudizi a massimo vantaggio della democrazia del paese allora noi le chiediamo come gruppo quali azioni pensa di porre in essere per tutelare un maggior rispetto della verità da parte di un'importante trasmissione di approfondimento e se pensa magari di deferire quanto accaduto all'interno all'audito aziendale volendo citare nuovamente quanto detto in passato questo non fa assolutamente il bene della Rai lei ha concluso dicendo che oggi l'ha detto è una Rai trasparente nei suoi processi per alimentare la fiducia dei dipendenti e degli utenti una Rai trasparente anche nell'informazione capace di mostrare all'utente come costruisce le sue notizie compreso il racconto della politica e meno focalizzata sui politici ecco questo è un tema molto molto importante che ci sta molto a cuore lei ha una parte in carico l'interna l'audita alle sue responsabilità come presidente sicuramente mi rivolgo a lei oggi e qui però dovrei rivolgermi a una catena di comando molto più ampia molto più importante però io credo che la fiducia si guadagna con la trasparenza sicuramente la Rai ne ha bisogno questa è la prima domanda la seconda domanda è sull'intelligenza artificiale lei proprio nel 5 dicembre rivedendo un attimo quello che ci eravamo detti lei aveva parlato anche della costituzione di un tavolo che poi adesso non so se lei prima mi pare di non aver sentito questo passaggio se è stato costituito come è stato costituito e se questo tavolo sta effettivamente operando c'è un tema anche a noi caro e le chiedo anche qui oggi mi permetto di ribadirlo è quello degli appalti ai fornitori esterni noi abbiamo già evidenziato in più occasione con quesiti scritti alcune pratiche che sono scorrette circa la gestione degli appalti da parte dei fornitori esterni è stato aperto da parte sua o sotto la sua responsabilità dell'interna lodi su queste vicende se sì con quali risultati grazie presidente soldi grazie presidente floridi grazie a lei adesso passo la parola all'onorevole boschi grazie buongiorno presidente intanto visto che forse sarà l'ultima audizione formale poi lo scopriremo diciamo col tempo il ringraziamento non è soltanto per la relazione di questa mattina ma per il lavoro del suo mandato di questi tre anni alla presidenza della RAI e la ringrazio anche diciamo per aver voluto in qualche modo offrirci degli spunti su quelli che secondo lei sarebbero i punti di forza su cui intervenire anche nei prossimi anni proprio per rendere la RAI più trasparente ma anche più diciamo in linea con quello che è il suo mandato di servizio pubblico e quindi cercare di arrivare al maggior numero possibile di cittadini in modo particolare a quelle categorie soprattutto diciamo a quelle generazioni che probabilmente insomma oggi sono meno interessate al prodotto che la RAI fornisce rispetto a questo però le chiederei anche se può di fornirci le sue principali preoccupazioni per i prossimi anni non soltanto i suoi auspici e le sue speranze ma quelle che secondo lei possono essere i punti legati non soltanto ovviamente al tema del bilancio e delle risorse ma proprio di gestione della RAI di organizzazione quello che a suo avviso in questa fase vede come preoccupante mi unisco alla richiesta anche del collega Graziano su alcuni elementi di chiarimento sulla vicenda Scurati perché ovviamente abbiamo avuto modo di ascoltare in questa sede sia il direttore generale che l'amministratore delegato e poi di leggere diciamo sue dichiarazioni successive in cui lei se non ricordo male sostiene che sia stato parzialmente raccontata diciamo il reale svolgimento dei fatti quindi mi pareva che parlasse di una parziale verità ecco quindi se ci può fornire elementi in più visto che è stato un tema che ha molto interessato anche l'opinione pubblica insomma se ne è discusso a lungo l'altro tema è quello già sollevato dai colleghi degli appalti esterni su cui più volte diciamo anche in questa sede siamo tornati e devo dire che anche negli ultimi giorni anche alcuni organi di informazioni tra cui il fatto quotidiano per esempio è tornato sul tema all'indomani della relazione ANAC e quindi c'è evidentemente da sempre un'attenzione sull'esigenza di salvaguardare valorizzare quelle che sono le professionalità e le competenze interne oltre a un tema di trasparenza ovviamente nella gestione degli appalti esterni su questo io ho anche rivolto un quesito specifico in questa sede al direttore generale l'amministratore delegato che riguarda i rapporti con la società LOFT su cui però amministratore delegato e direttore si sono riservati di fornire informazioni quindi non so se lei abbia elementi in più da offrirci in questa sede e l'ultima preghiera diciamo così per quanto riguarda il suo mandato visto che siamo in fase di parcondicio è proprio quella di un'attenzione particolare da parte della RAI sul tema della parcondicio e nello specifico ecco una preoccupazione per quanto riguarda soltanto il primo periodo di applicazione della parcondicio non abbiamo i dati di maggio e quindi chiaramente sono difficili valutazioni che sono complessive anche con periodi magari non coperti dalla parcondicio però riguarda in modo particolare quella che è l'informazione a livello regionale perché se guardiamo alcune regioni in modo particolare noi vediamo che sommando i tempi dedicati al governo locale dove si intende ovviamente quello regionale ma anche quello comunale al governo nazionale e spesso sono anche diciamo dello stesso orientamento politico ci rendiamo conto che in alcune regioni al resto dei partiti rimane un 17-20% in alcuni casi di spazio il che ovviamente desta qualche preoccupazione tutti conosciamo ovviamente lo spazio riservato alla comunicazione istituzionale però ecco dubito che tutti quei tempi fossero effettivamente a disposizione di quei soggetti politici per comunicazioni istituzionali e non avessero anche un impatto politico quindi in generale un'attenzione su questo tema grazie grazie a lei la senatrice Gelmini prego grazie presidente anche da parte mia un ringraziamento sentito non solo per la relazione ma per per il ruolo che lei ha svolto in questi anni perché è stata una voce alta e libera nel rappresentare un'azienda importante come la RAI trovo che la sua relazione sia molto chiara molto molto chiara nell'evidenziare le potenzialità ma anche le criticità e soprattutto il grande lavoro che ci aspetta e che aspetta coloro che operano all'interno della RAI il riferimento ai criteri ESG anche questo mi sembra un modo nuovo di valutare l'impatto sociale sulla sostenibilità sulla governance di una grande azienda come la RAI lo trovo un modo innovativo e moderno per rappresentare la RAI da parte mia alcune richieste di chiarimento e di risposta la prima sulla valorizzazione delle professionalità interne perché lei lo ha sottolineato poc'anzi e tutti noi credo siamo d'accordo nella consapevolezza che dentro la RAI ci sono davvero grandi potenzialità grandi professionalità e persone che sono veramente legate all'azienda e che hanno fatto una scelta di lealtà e di continuità pur avendo opportunità esterne e però non sempre la loro valorizzazione come dire raggiunge il merito che queste persone evidenziano dall'altro lato tutte le criticità che lei ha evidenziato io temo che la politica nazionale faccia fatica a dare una prospettiva e quindi mi domandavo io penso che la RAI riceverebbe un grande beneficio dalle collaborazioni internazionali da uno sguardo europeo e internazionale come potremmo rafforzare questo confronto rafforzare le partnership le sinergie e da qui uscire dalla politica dei partiti per entrare nell'analisi delle politiche e abbiamo anche un'opportunità che è quella delle elezioni europee io sono abbastanza sorpresa che non ci sia in questo contesto un'informazione legata non ai partiti alle campagne elettorali e ai programmi ma ruolo effettivo dell'Unione europea una conoscenza più puntuale delle competenze del Parlamento della Commissione del Consiglio europeo io penso che questo un servizio pubblico come la RAI lo dovrebbe fornire anche perché il dibattito è ancora molto italiano nel senso che sono elezioni europee ma molte volte i partiti legittimamente affrontano più le questioni nazionali e quindi quelle elezioni secondo me non sono fino in fondo percepite per ciò che rappresentano effettivamente l'ultima cosa anch'io constato sulle informazioni regionali un po' di sforamento in parte diciamo comprensibile perché i governi locali le istituzioni le istituzioni locali se hanno un colore politico questo non è una colpa ed è evidente che vanno a sommarsi all'informazione nazionale però forse un minimo di attenzione su questo ci starebbe e poi l'ultima questione il finanziamento stabile ecco volevo capire da questo punto di vista come potremmo fare è chiaro che servono più risorse ma nell'ambito delle risorse destinate alla RAI come potremmo magari erogarle in maniera diversa e garantire quella continuità e quella stabilità che favorirebbe un piano industriale un piano immobiliare più adeguato grazie senatore Gasparri sì grazie presidente per la sua relazione per il suo mandato io ho due questioni specifiche una riguarda la gestione delle risorse esterne perché molte volte si parla della valorizzazione delle realtà interne della RAI che del resto ha dipendenti in quantità giornalisti vorrei sapere cosa pensava essere informata del fatto che è stato sottoscritto un contratto con una società che si chiama Loft che fa capo al gruppo del fatto e che gestisce diciamo con un contratto di senno non è l'unico il RAI però qui c'è la particolarità che il conduttore della trasmissione peraltro ottima persona è uno dei direttori delle varie testate del gruppo il fatto che vende alla RAI una trasmissione chiave in mano quindi come dire la RAI rinuncia diciamo a qualsiasi forma di indirizzo sia rispetto a contenuti gestione e quant'altro quindi questa società Loft credo che abbia appunto un contratto di un determinato valore non è ripeto l'unico contratto esterno ma mi pare l'unico che si configuri con un gruppo editoriale che poi diciamo è anche quello del giornalista che conduce la trasmissione per quanto riguarda poi invece la vicenda Scurati che è stata toccata da un altro collega voglio sapere se poi c'è una prosecuzione delle iniziative giustamente annunciate dal direttore generale anzi dall'amministratore delegato mi pare che è qua in audizione perché diciamo lì il problema è stato che nessuno del vertice RAI ha negato quella presenza c'era un problema di 1800 euro e quindi ci sono anche scalette e tutto della trasmissione che confermava la presenza TG e titolo gratuito di Scurati e anche comunicato di stampa che l'azienda ha divulgato perché è stata la trasmissione quelli che la allestiscono ovviamente l'intesa del conduttore avevano informato la direzione approfondimenti delle presenze e avevano preparato un comunicato stampa che è stato divulgato che prevedeva la presenza di Scurati poi dopo si è inventato da nulla una cancellazione della presenza di Scurati il tema riguardava un aspetto di compenso che era stato già chiarito precedentemente l'amministratore delegato ha annunciato una procedura interna anche per usare i social personali per dire cose non vere è un comportamento scorretto per sapere se poi questa vicenda ha avuto un seguito a livello di consigliere dell'amministrazione per i comportamenti scorretti di chi ha denunciato una censura che non c'era e ha montato a darti un caso anche perché abbiamo avuto anche noi la documentazione di scalette comunicati e quant'altro quindi è palese chi ha mentito e chi ha detto la verità su questa vicenda c'è intenzione almeno di svolgere un'azione di richiamo almeno questo nei confronti di chi ha mentito danneggiando l'immagine della RAI inventando una censura che non c'era Onorevole Lupi Sì, grazie Presidente anch'io la ringrazio per la relazione ma anche perché credo che a conclusione del suo mandato ci abbia dato un contributo anche di ulteriore spunto e riflessione per le sfide che la RAI deve affrontare nei prossimi anni e ovviamente sarà da questo punto di vista il nuovo consiglio di amministrazione ma alcune questioni che lei ha sottolineato mi sembra che siano fondamentali dalla sfida appunto sulla sostenibilità al tema dell'età anche che si può parlare ai giovani se si parla con i giovani e poi se comunque un'azienda è giovane mi hanno insegnato che si valuta anche il futuro di un'azienda dall'età media dei dipendenti che quell'azienda ha se guarda il futuro non guarda il futuro quindi la digital media compano e le altre osservazioni che ha fatto io le chiedo una questione due questioni molto semplici che sono legate un po' ai suoi tre anni di mandato perché mi è piaciuto molto un suo passaggio quando ha detto noi dovremmo difendere più il servizio pubblico e le istituzioni e il presidente è quello che garantisce indipendentemente da tutto la difesa delle istituzioni e il suo passaggio sul fare amicizia con i dati io credo che ci siano tre elementi massimi che difendono le istituzioni primo guardare la realtà si chiamano i dati il secondo rispettare le regole perché lei viene da un'azienda e quindi sa che le regole in un'azienda come i regolamenti in un'istituzione tutelano le istituzioni e il terzo è quello della trasparenza evitare sempre di strumentalizzare o tirare per la giacca l'istituzione in questo caso servizio pubblico Rai credo che sia un errore che lo faccia la destra la sinistra il centro eccetera il presidente è una di queste funzioni di garanzia quindi in questi tre anni alcuni passaggi sono stati come ha visto questa funzione perché anche noi la chiamiamo ogni tanto non tanto per approfondire i contenuti che lei ha approfondito ma per dire che se ha fatto una sua dichiarazione a favore di un'area piuttosto che di un'altra allora la chiamo a favore di un'altra mi sembra che questo sport sia assolutamente deleterio se un dipendente non rispetta le regole si aprono le procedure e non è censura è semplicemente un problema di rispetto punto se io non posso fare una dichiarazione non la posso fare se devo avere una e c'è una totale differenza tra questo e ovviamente il fatto che non possa esprimere il mio pensiero che sia il vice direttore del Tg1 piuttosto che sia il conduttore di una trasmissione e mi sembra che questa questione forse a conclusione del suo mandato possa essere un tema di rimente cioè io credo che tutte le sue osservazioni siano state fatte non in funzione di un consiglio lei ha avuto anche la fortuna di avere un passaggio un anno e mezzo con una desegnazione di direttore generale di amministratore delegato un anno e mezzo con un'altra e quindi il quadro cioè non credo che la sua relazione abbia le luci sulla prima gestione e le ombre sulla seconda altrimenti non le farebbe non sarebbe dignitoso rispetto alla sua autorevolezza e alla sua presenza quindi mi piacerebbe che lei ci desse una parola definitiva per evitare polemiche ovviamente inutili se condivide il fatto che dati regole e trasparenza sia il tema fondamentale qualunque dipendente chiunque esso sia che non rispetta le regole si apre una verifica se queste regole sono state rispettate oppure no la seconda questione è anche legata alle ultime polemiche sul comportamento antisindacale ha vissuto da presidente l'unica condanna da parte della RAI riguardo a un comportamento antisindacale a fronte di una denuncia usigrai prima sotto Fuertes oggi ritornano le polemiche sui comportamenti anche sindacali come sono stati i rapporti io credo che il sindacato faccia e i sindacati facciano ovviamente la loro parte ma in questi anni il rapporto tra l'istituzione RAI e i suoi dipendenti e il rapporto con i sindacati e la pluralità della presenza dei sindacati perché le relazioni sindacali sono fondamentali quindi mi sembra che siano le due questioni molto puntuali anche perché invece sul contenuto dei quattro punti ci sono degli spunti veramente interessanti che credo sia dovere riprendere in altra occasione grazie l'onorevole caro tenuto buongiorno volevo ringraziare innanzitutto la presidente per essere venuta e per la relazione che ha fatto molto interessante diciamo l'unico dubbio che riservo su quanto su quanto ci ha detto è questa diciamo deferenza rispetto ai numeri ci sono sempre i numeri quando non lo so penso che alla fine i numeri non dicono sempre tutto appassionato di scientific superi diciamo ho questa ho questa idea sui numeri non sempre diciamo positiva però però i numeri effettivamente qualcosa ce la dicono ad esempio sentivo citare dei colleghi di un contratto in particolare che per carità sul quale capisco che si voglia fare chiarezza ma che rispetto alla quantità di appalti esterni che fa la RAI veramente rappresenta un cioè quello che leggo veramente una porzione minuscola allora a questo punto chiederei di fare luce su tutte le produzioni esterne e tutti gli appalti esterni che si fanno in RAI io leggo la Lux Vide con 22 milioni e mezzo di euro tra l'altro voglio dire spesso le governanze di queste società sono hanno parenti diciamo legami o con proprio con la RAI o con o ex dirigenti della RAI e quindi tutte queste critiche vanno bene facciamo chiarezza su tutto per carità peraltro anche la Repubblica ha avuto un appalto in RAI di recente per un documentario per cui anche la questione circa la produzione diciamo viene un po' meno comunque ma chiariamo tutto però e anche con le debite proporzioni e poi uno potrebbe anche pensare che andrebbe chiarito come come la RAI abbia fatto abbia fatto questo contratto con l'Atlantica Digital e per carità cioè forse era necessario un 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 contratto con una società che che insomma che fornisce quei servizi però certo fa pensare che fosse controllata da un'altra società il Presidente e da anni in questi in questi uffici e allora insomma facciamo chiarezza su tutto molto volentieri e a questo proposito io sono sicuro che il collega della Rega magari non l'avesse letto però io ho letto una risposta interessante di Ranucci rispetto alla sua alla sua domanda per cui magari anche quella domanda aveva già trovato una risposta grazie grazie a lei mi pare l'ultimo intervento l'onorevole Filini prego grazie Presidente ringraziamo anche noi a Presidente Soldi per l'audizione per il tempo che ci sta dedicando vado anche io subito al sodo perché credo che poi alla fine le opposizioni abbiano richiesto la sua presenza qui anche in forza delle sue dichiarazioni circa il caso Bortone dove lei in relazione al procedimento nei confronti della conduttrice ha dichiarato che è una cosa che non fa bene alla RAI ecco io volevo dei chiarimenti su questo perché a noi non ci risulta che ci sia un procedimento ma ci sia semplicemente una diciamo una richiesta di chiarimenti a fronte di una ipotetica violazione della polisi aziendale volevo sapere da lei se ritiene opportuno che la RAI chieda a un suo dipendente anche se è una conduttrice non credo che bisogna fare distinzioni tra conduttori conduttrici e semplici dipendenti nel momento in cui si ipotizza una violazione della polisi aziendale se ci sono delle regole penso che un'azienda debba intervenire e far rispettare quelle regole se non si fanno rispettare delle regole all'interno di un'azienda credo che non sia una buona cosa soprattutto se l'azienda si chiama RAI che sappiamo tutti essere la più importante azienda di comunicazione di centro di produzione culturale del paese e quindi volevo chiedere proprio questo se ritiene che sia stato opportuno da parte della RAI richiedere delle spiegazioni una dipendente che avrebbe violato la polisi aziendale e poi le volevo chiedere in maniera diretta secondo lei esiste la censura in RAI secondo lei c'è stata censura in questo caso perché ne abbiamo sentito parlare più volte e poi le volevo chiedere se non ritiene che se una dipendente divulga delle informazioni attraverso dei post che poi scatenano inevitabilmente delle polemiche che hanno avuto una grossa eco sia all'interno dei confini nazionali ma anche oltre perché se ne è parlato ovviamente se esce fuori dalla stampa che l'azienda di Stato italiana va a censurare le idee è inevitabile che ci sia un eco globale su una notizia del genere secondo lei c'è stato un danno all'azienda oltre che all'Italia ma questo magari sono considerazioni che facciamo noi c'è stato un danno dell'azienda a fronte di questo post fatto da Serena Bortone su una censura che poi abbiamo avuto modo di appurare non c'è stata poi le chiedo a lei ottenualmente di confermare o meno questa lettura un'ultima una considerazione che ha poco a che fare con la Presidente Soldi devo confessare che stamattina sono molto divertito perché sento le opposizioni in particolare giustamente nell'assoluto diritto delle loro funzioni contestare da una parte diciamo produzioni affidate al fatto quotidiano comunque società che fanno capo al fatto quotidiano dall'altra anche Repubblica ho sentito adesso ha avuto insomma degli spazi delle cose in Rai meno male che insomma si parla di Telemeloni grazie grazie a lei prego Presidente ok grazie grazie per l'ascolto e grazie anche per le vostre parole allora l'onorevole Graziano ha chiesto oltre del tema scurati che adesso indirizzerò il tema degli investimenti richiesti in un momento in cui alla Rai vengono tolte risorse come si fa a trasformare e quali sono gli effetti di realizzazione risorse che cosa fa la BBC per arrivare al 552 allora il tema delle risorse è un tema per tutti i servizi pubblici la BBC ha dovuto trovare mezzo miliardo di sterline che è più o meno quello che ci si aspetta di dover forse un po' di più di quello che ci si aspetta di dover trovare per finanziare e per industriale tagliando costi perché lì non hanno una controllata che si può appunto al quale si può attingere perciò ovviamente come tutte le aziende per trasformare uno deve togliere da una parte per rinvestire da un'altra perché è soltanto così che funzionano i numeri noi siamo nella fortunata situazione dove questo non ci viene richiesto e perché ci sono delle risorse in più al quale possiamo attingere io penso che il tema delle risorse certe ripeto è un tema proprio a tutti i servizi pubblici in Francia è stato tolto il canone un pari di anni fa è stato trasferito in un altro tipo di contributo in UK è stato avviato loro hanno un rinnovo di contratto di servizio nel 27 è già stato avviato una revisione di come si può finanziare il servizio pubblico io personalmente continuo a pensare che il canone è il metodo meno imperfetto perché in qualche modo dà il potere ai cittadini di poi esigere un certo servizio però è molto complesso perciò direi che le risorse servono la gestione delle risorse è importante è un tema al centro del piano industriale e non si si risolve guardando di nuovo i numeri e cercando di riallocare ma anche investendo molto nella formazione delle persone cioè io sono convinta di questo è un'opportunità per i dipendenti poter trovare anche la possibilità di altre competenze di un modo diverso di lavorare per quanto riguarda la qualità dell'informazione grazie al senatore Bergesio che ha fatto il ponte tra quello che ci siamo detti il 5 dicembre e questo la qualità dell'informazione come abbiamo spiegato oggi è in effetti stata implementata con la costituzione di questo osservatorio all'interno della direzione della direttrice Maggioni con l'opportunità appunto che abbiamo spiegato che già in autunno dovrebbe essere in piedi perciò il monitoraggio un po' più completo la qualità dell'informazione è estremamente importante per quanto riguarda la vicenda di Ranucci è ovviamente una vicenda all'interno del programma sarà a cura dei responsabili editoriali capire cosa è successo e sicuramente si potrà valutare un interno lode l'interno lode può essere richiesto sia da me o dall'amministratore delegato perciò sicuramente ne possiamo parlare è una questione ovviamente gestionale da un punto di vista di intelligenza artificiale assolutamente sì il tavolo è stato costituito è stato costituito con la stessa direzione che cura il piano industriale perciò di nuovo per cercare di massimizzare la cooperazione sono state e attinge a varie aree dell'azienda è un tavolo interno ma si lavora già con i BU perciò ci sono già stati una serie di incontri e sono state fatte due azioni concrete il primo in CDA abbiamo varato la policy per evitare lo scraping da parte dei chatbot di intelligenza artificiale del contenuto RAI e questo è stato qualcosa di battuto perché quasi tutti i servizi pubblici evitano questo tipo di scraping ovviamente il vantaggio di questo è che comunque i propri contenuti non sono utilizzati per allenare i large language models c'è anche la versione negativa di questo perché vuol dire che i large language models sono addestrati su contenuti che non sono di servizio pubblico però per adesso noi ci atteniamo a quello che è più o meno lo standard di BU e inoltre adesso in autunno dovrebbero essere approvate delle policy perché senza le policy è difficile sperimentare ma bisogna andare avanti quando ho fatto l'esempio e la BBC questi 12 piloti che esistono in azienda sono proprio a livello di sperimentazione cioè non è che si fa vedere agli utenti dei prodotti generati da AI ma all'interno di nuovo tema di competenze e tema di familiarizzazione si utilizzano questi piloti e si vede che tipo di effetto possono avere perciò stiamo andando avanti per quanto riguarda gli appalti esterni gestionali questo penso sia un tema un po' che è uscito da vari membri della commissione il piano industriale valorizza le risorse interne ha proprio questo come obiettivo valorizzare vuol dire formare vuol dire incentivare anche ai cambi vuol dire questo dialogo importantissimo ci sono stati appunto dei temi rispetto ai sindacati bisogna spiegare bisogna coinvolgere uno dei temi che ho detto più importanti per fare un cambiamento non si fa scrivendo un piano e approvandolo il cambiamento è lungo è un processo bisogna veramente accompagnarlo perciò per tutto quello che riguarda parti esterni e di nuovo chiamare in caso all'internal audit si possono valutare però tendenzialmente sono temi gestionali per quanto riguarda l'onorevole Boschi le mie preoccupazioni principali è un'ottima domanda questa io penso che la cosa che mi preoccupa di più è che la veloci e l'ho un po' detto nel senso se uno si prende in una luce diversa quella che è il mio auspicio la RAI che vorrei sono tante cose sono tante cose profonde sono sono delle dei cambiamenti epocali che vuol dire veramente guardare al servizio pubblico come un ente che deve avere una sua vita è una sua indipendenza e la governance oggi è un po' come decidere come politici come commissione di favorire il fatto di prendere delle distanze sono molto schietta ma spero che si riesca a fare l'European Freedom Act in qualche modo ce lo richiede la mia preoccupazione principale è che il mondo va avanti a una velocità pazzesca e noi siamo lenti ma non solo noi se lei mi chiede qual è la preoccupazione numero uno del direttore generale della BBC la lentezza della BBC che va a una velocità supersonica rispetto a molti altri servizi pubblici perché il nostro contesto di riferimento non è Mediaset non è neanche il 9 non è neanche la 7 ma sono quei signori americani che costruiscono gli eco-jamber che fanno sì che anche un servizio pubblico che può offrire un'informazione plurale verificata eccetera viene rifiutato perché oramai sono dentro e perciò la mia preoccupazione principale è il fatto che la costruzione giuridica della RAI per definizione è costruita per una stabilità l'organizzazione della RAI è costruita per una stabilità che aveva un senso assolutamente ma oggi non più perciò questi sono dei cambiamenti fortissimi che vogliono dire che le persone devono fare un passo indietro rispetto ai propri interessi personali per il bene di una visione di un servizio pubblico a servizio di una democrazia quello è tanto da chiedere perciò penso che sia questa la preoccupazione principale su Scurati parlerò il loft è un tema gestionale la par condicio sì la par condicio è un monitoraggio costante anche a livello regionale anche la senatrice Gelmini si è si è espressa in questo c'è un'attenzione molto forte ovviamente la par condicio si può dire è una legge molto parziale perché riguarda la televisione e abbiamo passato questa mattinata a dire che la televisione è solo una piccola parte una parte non piccola è una parte ma è solo una parte di come le persone si informano ma dove sono le possibilità online di far emergere i fatti la qualità dell'informazione eccetera eccetera perciò io sono preoccupata più che altro per il fatto che ovviamente la RAI rispetta le regole sta andando mi sembra bene nei monitoraggi non è questo il punto il punto è ancora una volta cosa stiamo creando come possibilità per gli utenti di avere di coltivare uno spirito critico per poter prendere delle decisioni importanti rispetto alla nostra democrazia questa è un po' la preoccupazione di fondo posso condividere con voi che di nuovo la BBC ma perché è presa come faro da molti per quanto riguarda le elezioni non misura in maniera esplicita dice il tempo non è assolutamente la misura per verificare equilibrio pluralismo è proprio ignorato esplicitamente nelle policy editoriali c'è scritto non misuriamo il tempo il tempo se uno vuole fare un esempio poco felice appunto in questo momento intorno alla presidenza Toti c'è un tempo infinito di notizie però non penso sia quello che noi vogliamo misurare perciò lì c'è di nuovo a Monte molto più un discorso di cosa è la qualità qual è la rappresentatività come capiamo che stiamo facendo le cose giuste e c'è un'onestà intellettuale poi alla fine ognuno di noi deve guardarsi con un'onestà intellettuale di come fa il proprio lavoro però ci sono delle policy molto specifiche su come si conduce la rappresentanza che si trova ma niente tempo per quanto riguarda la senatrice Gelmini le collaborazioni internazionali è il focus come lei dice su cosa vuol dire l'Europa cosa fa l'Europa sì sono pienamente pienamente d'accordo fa parte di nuovo di un tema di formazione e di informazione che noi dobbiamo fare è qualcosa che secondo me si deve fare sempre di più e le collaborazioni internazionali sono molte di più di quanto ci si rende conto e per quanto riguarda la RAI veramente molto ben incastonata all'interno dell'European Broadcasting Union e anche il lavoro fatto sull'European Medium Freedom Act per esempio anche con l'aiuto dell'IBU e dunque dove la RAI partecipa è chiaro che qui si torna a un tema anche molto basilare per quanto riguarda la RAI molto spesso abbiamo difficoltà nel far partecipare anche a formazioni anche a workshop perché c'è un tema di lingua e dunque si torna alla formazione e alla preparazione che dobbiamo fare dei nostri dipendenti per far sì che possono avere questo sguardo e questa partecipazione per quanto riguarda l'elemento internazionale il finanziamento stabile appunto l'abbiamo detto come si fa la riforma io penso che appunto l'idea della Presidente di Stati Generali o comunque di mettere insieme davanti all'inizio di un nuovo contratto di servizio nel 2027 la BBC questi due anni farà un'attività mai fatta in questa scala per capire la BBC che si vuole nel futuro da un punto di vista di utenti da un punto di vista di operatori del settore e dunque questo ascolto diventa estremamente importante dunque per quanto riguarda il senatore Gasparri l'OFT è un tema gestionale riferirà all'amministratore legato a breve come vi ha detto scurati ne parleremo per quanto riguarda l'onorevole Lupi sì è vero tutto quello che lei dice ho cercato di non essere strumentalizzato alla fine il ruolo di presidenza è un ruolo di garanzia perciò non è non sono da una parte né dall'altra e comunque cosa io voto non deve essere rilevante a come faccio il mio lavoro non è richiesto c'è un'onestà intellettuale c'è una una barriera tra cosa io posso credere politicamente e come faccio il mio lavoro e quella barriera lì è fondamentale quell'onestà intellettuale è un dovere di ciascuno che lavora in RAI secondo me ma in qualsiasi azienda perciò è verissimo guardare la realtà è quello che ho cercato di fare da un punto di vista anche di luci ed ombre ed sono state luci ed ombre che sono normali cioè è impossibile che vada tutto bene almeno forse voi vivete una vita da Instagram ma la verità è un'altra e dalle cose che non vanno bene non è che uno deve essere accusato la vita da Instagram vuol dire la vita da Instagram vuol dire che su Instagram si mettono soltanto le cose belle perciò un'azienda non no no ma infatti ma no non stavo dicendo questo stavo dicendo non so se voi ma neanche io ho detto probabilmente non so se voi ho detto non so se voi vivete no mi scuso non era questo il mio obiettivo magari ho sbagliato però stavo dicendo che nessuno vive una vita da Instagram cioè non si possono vedere solo le luci ci sono anche le ombre nelle vite e così nelle aziende per quello che ho alla fine detto questo cercato di dare un resoconto che è che è assolutamente bilanciato diciamo per quanto riguarda i comportamenti antisindacali volevo dire che i rapporti con i sindacati sono molto importanti e ci sono molti tipi di contratti lavorativi giornalisti dirigenti impiegati operai e anche gli orchestrali perciò è un tema all'attenzione assolutamente deve essere un tema molto importante perché di nuovo questi cambiamenti senza il coinvolgimento e il convincimento dei sindacati non si possono fare l'onorevole caro tenuto la differenza è vero la differenza dei numeri forse ha ragione nel senso che i numeri sono sia quantitativi ma anche qualitativi e sono la base di una discussione o comunque di un indirizzo non devono essere i dati guidano non è che dettano c'è una bella distinzione perciò ha ragione in quello che dice ed è un buon punto di partenza perché se uno di nuovo parla e discute sui dati allora è un punto di partenza anche comune più oggettivo dopodiché il guizzo umano e tutto quello che riguarda appunto la parte di alchimia con anche appunto l'umano diventa fondamentale l'onorevole Filini dunque penso che le sue domande siano principalmente state sulla vicenda Bortone perciò finisco nel dire questo allora per quanto riguarda la richiesta di elementi informativi in merito alla vicenda della partecipazione di Antonio Scurati alla puntata del programma che sarà del 20 aprile scorso mi limiterò a svolgere alcune sintetiche osservazioni rispettando i limiti della mia competenza in materia come presidente come sapete lo statuto sociale attribuisce alla presidente RAE la supervisione del controllo interno ciò comporta che la direzione interna l'audit che si occupa tra l'altro delle attività ispettive in ambito aziendale dipende dalla presidente e riporta funzionalmente anche all'amministratore delegato dal punto di vista del timing l'audit sulla vicenda è stato richiesto dall'amministratore delegato in accordo con me il 24 aprile è stato emesso in bozza il 7 maggio e la versione finale è stata consegnata il 13 maggio preciso che il report di audit è un documento interno di carattere riservato con destinatari specificatamente individuati mi limiterò dunque a svolgere due osservazioni che mi hanno indotto anche ad una dichiarazione pubblica veniamo alla prima la ricostruzione dei fatti svolta dall'amministratore delegato in commissione di vigilanza è nella sostanza corretta la rappresentazione contenuta del rapporto di audit tuttavia ci restituisce l'immagine di una vicenda più complessa di come è stata raccontata con disallineamenti operativi e di comunicazione all'interno della direzione editoriale competente legati a una timeline degli eventi molto precisa ed è questo che mi ha indotto a espormi pubblicamente naturalmente l'audit che è finalizzato ad una ricostruzione oggettiva e il più completa possibile dei fatti non può interpretare le intenzioni sottostanti ai comportamenti né è mia volontà assumere tale compito ritengo tuttavia che l'importanza della tempistica andasse evidenziata in ogni caso tengo a precisare che non possono essere attribuiti intenti censori al vertice aziendale la seconda osservazione attiene invece ad una simmetria che ho registrato a valle della ricezione in bozza del rapporto di audit tra la tempistica adottata nella contestazione mossa a Serena Bortone e la valutazione delle altre iniziative aziendali per la incongruenza operativa e relazionale individuate proprio dall'audit da un lato la violazione della polisi aziendale da parte della conduttrice era nota da subito quindi avrebbe potuto essere contestata con immediatezza ma una volta decorsi oltre 15 giorni dall'accaduto quando era già disponibile un report di audit in bozza che evidenziava una situazione complessa e articolata sarebbe stato preferibile a mio parere adottare un approccio unitario e affrontare in un unico contesto anche tutte le criticità emerse dal rapporto di audit è un tema di opportunità non ho nessun intento di entrare in valutazione di carattere gestionale che non mi competono e spettano l'amministratore delegato resta il fatto che l'impatto mediatico di queste scelte ha provocato un'ulteriore strumentalizzazione in una vicenda così sensibile e delicata ringrazio la Presidente Soldi credo che possiamo se mi chiedono i gruppi un secondo giro facciamo un secondo giro e l'importante vi chiedo soltanto di terminare entro le 9.45 la Presidente ha quella disponibilità solo perché c'è poi Aula del Senato i gruppi chiedono è soltanto un gruppo che voglio dire se apriamo apriamo chiaramente alla possibilità di tutti prego Presidente lei può restare le avevo detto 9.30 ma ce la possiamo fare prego in maniera telegrafica sentita la risposta della Presidente innanzitutto specifichiamo che Instagram è il mezzo con cui l'abortone ha fatto quel post da cui è partito tutto quindi giusto per riallineare un po' la questione Instagram non ho capito però io le avevo chiesto secondo lei c'è stata o no una censura in RAI perché lei ha detto non c'è stato un intento censorio da parte della dirigenza RAI ma lei vuole chiedere in RAI c'è la censura o no questa è la prima domanda e la seconda le ho chiesto non ho sentito la risposta se non ritiene che quel post che poi ha ingenerato tutta questa serie di polemiche non abbia comportato un danno all'azienda o meno grazie se può rispondere su questi due punti prego senatore Verducci grazie a lei presidente grazie alla presidente soldi per la sua audizione di oggi e per il lavoro che fa però io in questa circostanza mi limito a intervenire sul tema oggetto della conclusione della relazione della presidente ovvero sulla vicenda Antonio Scurati all'interno del programma di Serena Bortone a nostro avviso presidente il caso questo caso non è chiuso perché noi continuiamo a denunciare su quel caso un evidente tentativo che poi si è verificato di censura da parte dei vertici dell'azienda lei poco fa ha affermato il contrario la linea verticale dell'azienda è molto ampia a nostro avviso alcuni funzionari sono intervenuti per impedire che il monologo di Antonio Scurati andasse in onda quindi non ci soddisfa questa sua risposta presidente a nostro avviso è vaga e contraddittoria noi continueremo in questo caso lo dico ai colleghi e alla presidente Floridia continueremo a chiedere l'audizione della capodattrice Bortone e del direttore Corsini perché a nostro avviso questa è una vicenda emblematica di un tentativo di censura e del clima di continue pressioni e intimidazione che c'è da parte dei vertici nei confronti dei dipendenti dell'azienda noi pensiamo presidente concludo e denunciamo il fatto che il contratto ad Antonio Scurati sia stato revocato solamente nel momento in cui il contenuto del monologo di Scurati è stato conosciuto dai vertici della RAI quindi non è stato revocato in condizioni diciamo neutrali qui l'amministratore delegato ha detto che quel contratto è stato revocato perché nell'immediatezza della messa in onda l'azienda si sarebbe accorta questo lo ha detto l'amministrazione Sergio di un periodo di promozione di una graphic novel con Feltrinelli da parte di Antonio Scurati a poche ore da queste affermazioni la casa elettrice Feltrinelli come già aveva fatto Antonio Scurati ha assolutamente negato che ci fosse alcuna promozione in essere a venire quindi noi riteniamo quanto detto detto in maniera artificiale una scusa assolutamente infondata come poi è stato detto dalla casa elettrice ma noi qui sappiamo i fatti cioè nel momento in cui dalla redazione del programma viene inviato il contenuto del monologo discurati ai vertici della RAI i vertici della RAI si accorgono che c'è un'ipotetica promozione in atto che non esiste come abbiamo saputo revocano il contratto che invece fino a che non si conosceva il contenuto del monologo è un contratto che poteva esserci come c'è per tutti in RAI lo cancellano esigono una partecipazione a titolo gratuito senza informare la conduttrice che chiede ripetutamente per ore e ore spiegazioni ai vertici dell'azienda senza riceverle e vogliamo capire il perché di questo comportamento da parte dei vertici aziendali e si arriva di fatto alla revoca di quel contratto e quindi alla decisione di Antonio Scurati di consegnare gratuitamente il suo testo all'azienda gratuitamente non dietro compenso gratuitamente il suo testo all'azienda questo comportamento signora presidente faccio riferimento alla sua professionalità alla sua diontologia questo comportamento da parte dei vertici dell'azienda è un comportamento fatto per impedire che qualcuno vada in video e dalle nostre parti questo comportamento si chiama tentativo di censura che poi ha avuto buon esito come si è visto nei fatti grazie grazie senatore Gasparri cattivo esito naturalmente se può accendere il microfono gentilmente voglio ringraziare la presidente perché a parte le produzioni di opportunità su quello che è avvenuto che sono totalmente legittime ovviamente vista la polemica che ne è conseguita ha detto con chiarezza e questo ha creato il rammarico di qualche collega che non ci sono stati intenti censori da parte dell'azienda e che è dimostrato vista che è stata fatta una ricostruzione dei fatti mi tocca farla anche a me da quanto è avvenuto perché nella giornata del venerdì precedente alla famosa puntata è stato mandato dagli responsabili l'ho detto prima a questo punto sarò più specifico da Ilaria Mecarelli produttore esecutivo la scaletta ai vertici degli approfondimenti con la serie degli interventi previsti in quella puntata tra cui Antonio Scurati ho scritto TG il titolo gratuito censura vorrebbe dire rimuovere la presenza di una persona non i 1800 euro per un minuto che è un'altra questione allora lei può decidere se vuole pagare o non pagarli non mi interessa la quindi l'approfondimento quindi lo dico al collega che evidentemente non ha informato ho sentito solo alcuni manda questa scaletta questa è la scaletta questa è la scaletta di Ilaria Mecarelli chiedo se è una dipendente RAI al presidente che dice che c'è questa scaletta Landini in titolo gratuito Scurati in titolo gratuito Francesco Specchia a titolo oneroso un giornalista in coronata boccia a titolo gratuito che è una dipendente RAI eccetera eccetera dopodiché successivamente questo è stato mandato nel pomeriggio del venerdì alle ore 17 e 42 dopodiché la redazione manda il comunicato stampa come si usa a fare i RAI che viene approvato alle 18 e 26 e la RAI diffonde il comunicato stampa con la presenza di Scurati un'azienda che diffonde il comunicato stampa annunciando la presenza di una persona non è un'azienda che censura quindi ha ragione la presidente Soldi che ha detto che non c'è censura e ha torto chi parla della censura poi possiamo discutere dei 1800 euro al minuto ma la libertà l'antifascismo non valgono 1800 euro al minuto sono valori che non si svendono la censura non c'è la scaletta è questa e il comunicato stampa è stato diffuso alla stampa da parte della direzione approfondimenti sulla base di ciò che hanno mandato quelli della trasmissione che sarà quindi non c'era nessun impedimento alla presenza di Scurati c'era un problema di 1800 euro per qualcuno la libertà vale questa tariffa grazie se non ci sono altri interventi certo prego presidente solo per onestamente è un attacco da respingere in toto quello fatto dal senatore Gasparri perché immaginare che il tema siano i 1800 euro ovviamente sia veramente incredibile però mi dispiace perché la presidente soldi ha detto delle cose in dichiarazioni che oggi in realtà ritratta di fatto e per me questo è un elemento non positivo perché ovviamente a mio avviso quando si dicono delle cose sul piano pubblico a mio avviso restano quelle cose quindi o si è voluto come dire ritrattare quelle posizioni che sono state dette pubblicamente oppure non c'è per noi questa vicenda non finisce perché è una storia bruttissima è una bruttissima pagina della RAI e mi dispiace che lei non usi queste parole perché c'è una censura netta a nostro avviso che facciamo finire abbiamo sentito tutti facciamo finire e poi c'è modo di continuare a intervenire ma ognuno di noi può esprimere ancora l'opinione oppure no no per sapere se la posso esprimere oppure no la presidente ha richiamato all'ordine continua il suo intervento se poi volete spiegare a me quello che devo dire io me lo dite me lo scrivete può dare se io ci riesco continui il suo intervento per favore continui tranquillamente ognuno di noi ognuno di noi ha letto delle cose sa delle cose ci sono delle informazioni molto chiare e io penso che questa storia deve essere chiarita nel merito perché il punto è che c'è stato a un certo punto dove sostanzialmente senza avvisare la conduttrice è stato revocato il contratto a scurati allora io le chiedo presidente nello specifico io le chiedo nello specifico presidente io le chiedo un punto specifico le chiedo è stato o no revocato all'improvviso il contratto di scurati perché siccome noi abbiamo la mail che è stata pubblicata dai giornali ci deve essere un motivo per il quale quel contratto è stato revocato e lì sta scritto che è stato revocato per motivi editoriali che è equivalente ad una censura punto e scusi chieda la parola siamo in una commissione ci sono delle regole per favore prego senatore casparmi anche se ha già parlato questa scaletta che consegno alla presidente e ovviamente il comunicato stampa che prevedeva la presenza di scurati quella è la scaletta della trasmissione approvata dalla direzione approfondimenti è vera o è falsa? è una scaletta che lei ha avuto? ho avuto la scaletta io non l'ho avuta non l'ho richiesta questo è interessante sapere come prego onorevole Filini ha ragione scusi onorevole Filini prego onorevole Lupi si era prenotato prima rispettiamo il regolamento era semplicemente una constatazione nei confronti rispetto alla domanda che le avevo fatto presidente perché se lei fosse venuto qui a dire che c'era stata una censura ovviamente ci sarebbe stata la gioia da parte di chi politicamente ritiene che c'è stata una censura e l'insoddisfazione da parte di chi ritiene che non c'è stata una censura la realtà è sempre oggettiva e forse noi dovremmo lo dico con tutto rispetto al collega Graziano e ad altri indipendentemente dal nostro parere politico difendere il servizio pubblico RAI e l'istituzione perché non serve continuare a attaccarla se la presidente viene in commissione oggettivamente poi la presidente ha fatto anche altre osservazioni ma che non riguardano il cuore del servizio pubblico e il cuore del servizio pubblico è dare la possibilità sempre alla pluralità di espressione e quindi la presidente in maniera oggettiva sappiamo le critiche che possono esserci anche rispetto ha detto che grazie a Dio in RAI la censura anche su questa cosa non c'è stata ci possono essere stati ha detto la presidente e sono motivo di accertamento non solo nei confronti di un dipendente che ha violato il regolamento eccetera perché ha detto questo oggettivamente e che ha creato rispetto a quella violazione di regolamento una polemica che si poteva evitare assolutamente sul valore dell'istituzione anche tempi e modalità che potevano evitare ulteriormente però collega Graziano non è che si può tirare sempre per la giacca qualcuno se c'è un dato rispetto a una legittima interrogazione che l'opposizione ha fatto io avrei passato tutto il mio tempo non a discutere della censura ascolatica che non esiste ma al fatto invece che alcuni contenuti che la presidente ci ha posto sono molto più importanti di quelli ma la legittima scelta politica di una condizione da parte dei gruppi è legittima però basta tirare per la giacca e dire perché sembra se no tra virgolette lo dico una minaccia indiretta perché se no qui non si può venire a dire l'oggettività perché mi scusi lei ha appena detto che lei ha appena usato anche con un tono un po' più alto la conosco molto bene e so ovviamente che non è il suo stile però non si può fare in questo modo ritorniamo fino a che il presidente dirà che invece la censura c'è stata non devo difendere il presidente devo solo difendere il valore del lavoro che noi facciamo per tutti quindi mi sembra che il dato sia oggettivo altrettanto mi sembra che la censura quando tu e concludo perché adesso esprimo il mio parere del merito indipendentemente se si paghi o no ti dico tu non puoi intervenire è stato scurati che si sarà offeso perché anziché 1800 euro non ce li dava che non ha voluto intervenire perché poteva intervenire tant'è vero che adesso dico il mio parere così reagisci ma non tiri per la giacca il presidente tu non tiri per la giacca il presidente perché ha difesa l'istituzione io ti posso dire un parere e tu mi contesti perché è un parere esattamente opposto se Scurati voleva intervenire lo faceva gratuitamente anziché dare questo benedetto contenuto che ha letto comunque poi se ti posso dire altre cose secondo me si poteva gestire in tutto altro modo quella vicenda e mi sembra che la presidente da questo punto di vista l'abbia detto in maniera ovviamente delicata e istituzionale come fa ma la censura è un'altra cosa grazie scusate scusate onorevole Filini aveva chiesto la parola prima scusate parliamo su richiesta preferirei sentire la precedenza sì c'era l'ultimo intervento prego onorevole caro tenuto sì no noi sappiamo dalle sue parole che l'audit era secretato però questo segreto evidentemente è stato svelato al senatore Gasparri perché vogliamo sapere come ha avuto questa scaletta da chi e perché perché quando si chiede trasparenza poi si deve chiedere trasparenza su tutto io lascerei adesso la parola alla presidente senatore Gasparri si parla al microfono su richiesta e si parla per l'audizione perché altrimenti facciamo la scaletta di un programma è andato in onda pubblicamente non era segreto l'hanno visto in televisione come presidente scusi senatore Gasparri ha chiesto la parola per un altro intervento il terzo e prego questa presidente penso che chieda era un programma pubblico andato in onda in televisione quindi non è una vicenda oscura o segreta si chiama televisione e uno con un tasto schiaccia la può guardare grazie io credo e lascio la parola alla presidente e lascio la parola alla presidente penso che possiamo fare anche un attimo di silenzio per sentire le risposte e credo che questa commissione il prima possibile subito dopo l'europea dovrà lavorare all'organizzazione degli stati generali perché è evidente che il rivedere la governance del CDA rivedere il concetto di servizio pubblico rivedere l'importanza delle risorse rivedere in che misura i dati sono importanti è urgente improcrastinabile e abbiamo necessità di discutere in questa commissione di questi temi che forse a monte risolvono tutte quelle che sono le criticità che a valle vedono i partiti gli uni contro gli altri prego presidente grazie presidente non ho ritrattato quanto ho dichiarato da un punto di vista di reputazione di danno all'azienda si doveva agire in maniera unitaria non posso rivelare quello che c'è scritto nell'audit una scaletta è un elemento ma il tempismi di queste azioni che erano azioni anomale questo è quanto anche descritto in CDA non posso entrare in uno specifico merito ma c'erano delle azioni che erano e dei comportamenti che non erano usuali e sono avvenuti da un certo momento in poi mi dispiace ma questo da un contesto e una colorazione a qualsiasi altra azione viene dopo la policy è stata violata c'è stato un danno alla RAI non solo del post ma come è stata gestita da un punto di vista sostanziale e di comunicazione questa vicenda non si possono dare delle intenzioni a quelli che sono i fatti ma l'amministratore delegato aveva gli stessi fatti miei e questa cosa non si può dunque ignorare per quanto riguarda il discorso della della censura in RAI io non ho non ho visto intenti censori da parte del vertice quello è questo che ho detto la censura è una parola bruttissima non l'ho vista non è non è questo l'obiettivo di un audit non è questo il modo di essere di appunto di vedere i fatti ma i fatti devono essere completi e l'attempismo per il quale accadono determinate comportamenti fa parte dei fatti spero di aver risposto adesso a quanto mi è stato richiesto e vi ringrazio veramente di nuovo per la vostra attenzione grazie è stata chiarissima grazie a lei per il suo lavoro e per questa audizione grazie a lei grazie a lei